Tutto andava bene in Svezia. Nell'inverno del 72, un gruppo di politici ebbe una visione rivoluzionaria del futuro. Era giunto il momento di liberare le donne dagli uomini, gli anziani dai figli, gli adolescenti dai genitori. Venne scritto un manifesto, la famiglia del futuro. Siamo iniziando con, spero, qualche provocazione da Norda Europa. La teoria di svedese di amare. Cosa dice? Dice che tutte le relazioni autentiche humani devono essere basate sulla fondamentale independenza tra le persone. Independenza tra le persone. Independenza tra le persone di socializzazione. Il ha sattato qui sotto la data, insam, e ha trasportato da diverse conto. Si può essere, come si può dire che una persona ha avuto due anni, è stato morto. La storia di Etiopien ha dato molto di vita. Mi ha avuto un'ottima vita. Un'ottima vita. Un'ottima, un'ottima, un'ottima. Mi ha avuto il mio lavoro. The Swedish Theory of Love